Grazie a tutti. Bastone, correttivo a Cobalto di No. Si va in partenza. Vediamo se i cavalli più ardenti avranno preso bene questa partenza richiamata. Uno Cobalto di No, due Baltimora, Trio, Trebricone, Bello, quattro Volnick, Ducras, cinque Bessi di Poggio, sei Azzalea, Jet. Favorito Volnick, Ducras, le alternative sono Cobalto di No e Bessi di Poggio. Autostart che accelera. Partiti. Cobalto di No e Volnick Ducras alle prese. Bessi di Poggio all'esterno. Insiste Volnick all'attacco di Cobalto, passa a condurre all'imbocco della prima curva. Volnick in vantaggio, sbaglia, Bessi di Poggio. Cobalto di No rimane in seconda posizione avanti a Baltimora, Trio. Che precede Bessi di Poggio, squalificato. Quattordici e tre per i primi duecento con all'avanguardia l'allievo di Lorenzo Baldi. Molto giocato in apertura, quota che poi è leggermente risalita in chiusura. È comunque il netto favorito. Precede Cobalto di No. Terza posizione a leggero intervallo per Baltimora, Trio. Il quale precede Briccone, Bello e quindi Azalea, Jet. I 600 metri della testa se ne vanno in 44,5. Volnick Ducras in netta evidenza. Cobalto di No lo segue. Poi Baltimora, Trio in terza posizione, ma una ventina di metri dai primi due. 58,4 per i primi 800 metri di corsa. Volnick Ducras che pigia sull'acceleratore quando siamo al primo chilometro. Che si completa a gran bel ritmo. Uno 12,7 il primo chilometro per il figlio di Varenne che continua in avanti. Cobalto di No lo segue. Baltimora, Trio è sempre terza, ma ora a 30 metri dai primi due. I 1.200 in 1,26 e mezzo si accelera ancora. Si va sul piede dell'1,12. Volnick Ducras che accelera ulteriormente a metà della curva finale. Cerca di lasciare lì Cobalto di No va anche per il ciocco. La piegata completata in 14,1. La retta d'arrivo per Volnick Ducras che va per spaccare i cronometri. Volnick Ducras che vince come vuole nei confronti di Cobalto di No che fa il secondo. Al terzo posto Briccone Bello. 1,11 e 7, 1,54 e 8. 28,3 ancora a chiudere. 56,4 gli ultimi 800 metri di corsa. Volnick Ducras, Lorenzo Baldi che allena e guida per il colore di Gaetano Vessichelli. Ancora una volta rinasce Volnick Ducras a nove anni. Cavallo dalla classe infinita. Oggi fa un ciocco cronometrico in percorso d'avanguardia. Lorenzo Baldi che deve solo controllare. Chiude anche la briglia. Gli ultimi 150 metri per andare ancora un po' di più. 56 appena abbondanti. Gli ultimi 8 bastano per fare dispersione cosmica. Volnick Ducras, Lorenzo Baldi. Gli ultimi 8 bastano per andare ancora un po' di più. Gli ultimi 8 bastano per andare ancora un po' di più. Gli ultimi 57,7. Quali 5 bastano per andare ancora un po' di più.